Parla tifoso dell'Azzurra. Benvenuti ad un'altra edizione esclusiva del nostro canale di notizie. Ma prima di iniziare, premi il pulsante mi piace se sei un azzurro nel cuore. Oggi vi proponiamo il dietro le quinte rivelatore della conferenza stampa post partita con coach Francesco Calzona. Preparati ad emergerti negli approfondimenti tattici che modellano il percorso del nostro amato club. In un discorso coinvolgente, Calzona ha condiviso la sua visione della prestazione della squadra e del lavoro tattico dal suo arrivo. Ha sottolineato l'importanza di un calcio attraente e di come esso renda più facile raggiungere gli obiettivi. Con passione, l'allenatore ha evidenziato la proattività radicata nell'animo della squadra, ricordando la vittoria nello scorso campionato. Anche di fronte alle difficoltà, i giocatori hanno dimostrato dedizione, migliorando giorno dopo giorno la qualità degli allenamenti. Calzona ha espresso la sua soddisfazione dopo la partita contro il Sassuolo, sottolineando la resilienza della squadra. Dopo il vantaggio avversario, invece di soccombere, i giocatori hanno mostrato determinazione, che riempie l'allenatore di speranza per quello che verrà. Un messaggio emozionante che risuona nel cuore dei tifosi, alimentando la fiducia nel promettente futuro del Napoli. Il tecnico ha approfondito il lavoro tattico, affrontando entrambe le fasi di gioco. Ha sottolineato l'importanza dell'organizzazione in fase difensiva, riconoscendo i limiti di tempo per lavorare su questo aspetto. Calzona, però, ha evidenziato anche le qualità superiori alla media della squadra in fase offensiva, spronando i giocatori a esplorare il proprio potenziale. Nessun talento ingabbiato, solo indicazioni preziose per tirare fuori il meglio da ogni persona. Questa conferenza stampa rivelatrice ci offre una visione privilegiata del pensiero strategico del nostro allenatore. Allora, fan, cosa ne pensate di queste parole stimolanti? Lascia i tuoi commenti qui sotto, condividi le tue aspettative per il futuro del Napoli. E non dimenticare di iscriverti per non perdere le prossime novità direttamente dal cuore del nostro club. Restate sintonizzati, il viaggio è appena iniziato. Forza Napoli sempre!